Samanta, aspetta che non ti sento. Mi senti? Adesso sì, con quest'altro sì. Eccoci. Allora Samanta, innanzitutto ti voglio dire che mi sei piaciuta molto quando ti sei commossa per Ras, che è tornato indietro dalla prova, che ti ha portato qualcosina da mangiare e ho notato anche la tua dolcezza. Era un bel gesto. Sì, ha fatto una cosa molto carina, però siccome non è una cosa scontata ho visto che tu l'hai apprezzata molto. E poi ho visto che ti sei commossa anche per il saluto di Giulio, che non era nell'isola con voi, che ha chiesto agli altri di salutarti, per l'abbraccio di Eva. Insomma, credo che nella fatica di questa prima settimana, con una pioggia infernale, con molta fame e tante situazioni un po' difficili, credo che questi gesti siano stati molto apprezzati da te. E queste piccole cose alla fine rendono tutto un pochino più piacevole. Senti Samy, c'è una cosa importante che devi sapere ed è una notizia che arriva da casa tua. Ascolta, ascolta. Sì. Ciao mamma, io Papo e B ti volevamo fare un grandissimo in bocca al lupo. Stai tranquilla, stai andando veramente benissimo, ma ti dico benissimo. Stai tranquilla, stai andando veramente benissimo.